Ancora una volta Cerchio Ifior attraverso Tullia e Gian, Moti La pace sia con tutti voi figli Eccoci dunque ancora una volta assieme, ancora una volta per cercare di rinnovare questo contatto tra una realtà visibile, concreta, materiale, e una realtà invece, invisibile, che sembra sfuggire ad ogni applicazione dell'osservazione Eppure, come noi abbiamo detto spesso nel tempo, non ha poi una grande importanza riuscire a comprendere veramente qual è la verità che sta dietro alla facciata che noi vi presentiamo Quello che è importante è il fatto che nella vita frenetica che conducete tutti i giorni Voi sappiate cercare un'isola in cui abbandonare per un attimo dietro la porta le preoccupazioni che vi assillano quotidianamente Voi sappiate trovare quel qualcosa in più sul quale durante le giornate non riuscite a soffermarvi Quel qualcosa che provoca in voi delle risonanze indimenticabili, spesso anche sconvolgenti, perché vi distraggono dai compiti di tutti i giorni Chi è che vi chiama dall'ombra più profonda di voi stessi? Cos'è che risuona del vostro intimo, spingendovi a ricercare qualche cosa senza neppure sapere di preciso? Cos'è che andate cercando? Qual è la spinta che vi porta lungo percorsi diversi, lungo strade fisiche diverse, da città diverse A ricongiungervi in una specie di rito con altre persone di altre città per piccoli incontri che dall'esterno Possono anche sembrare privi di significato e cheppure, evidentemente, qualche cosa riescono a darvi Altrimenti non continuereste a ricercarli, a farne parte, a lasciare che essi influiscano sul vostro modo di essere, di agire, di pensare e di vivere